Ciao e benvenute in questo allenamento dedicato alla tonificazione dei glutei in cui potrai usare un carico come sto facendo io oppure eseguire gli esercizi anche semplicemente a corpo libero. Io sono Enrica, coach dell'Accademia Online Bella in Forma per Sempre ed oggi oltre a guidarti in questa successione di esercizi ti invito a scaricare la sfida 10x10 dove per 10 giorni consecutivi ti guideremo in 10 minuti di allenamento corporeo e 10 minuti di allenamento mentale in cui ti insegneremo strategie utili per raggiungere al meglio i tuoi obiettivi. Questa sfida è stata seguita con successo da migliaia di donne e sono certa quindi sarà super efficace anche per te. Ora scarica gratuitamente la sfida 10x10 tramite il link che ti metto qui sotto in descrizione e ricorda che un like o un commento a fine allenamento è sempre gradito ed ora pronta a partire! Ciao! 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 byeam a tutti! ciao ciao! 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 Guaragの Mogolletà Ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti